Buonasera Jake mi ha detto che suo figlio è a caccia di cinghari Nick non caccia, è un ragazzo di città Non avete armi in città? Non da me, non in casa E ora? Ora è diverso Generalmente quanto dura questa caccia? Beh, dipende, un paio d'ore Tutta la notte I cinghiali sono creature feroci Ma loro torneranno sani e salvi Alicia deve aver letto tutto il libro di Mosè ormai Ad alcune madri non dispiacerebbe Mio figlio è che cerca Dio Sta cercando un posto Non ne hanno mai avuto uno Di posto Nick è tossicodipendente Ho passato gli ultimi cinque anni in attesa di una chiamata dall'obitorio Oggi gli ho detto che se fosse andato via Lo avrei lasciato andare Ma è qui che lo aspetta Esattamente Facciamo dei torti ai nostri figli E delle cose per loro per Rimediare ai torti Sa perché chiudo un occhio con mio figlio? Andiamo, camminiamo Cerca 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 Dove stiamo andando? Nel sotterraneo I miei video non mi hanno reso il parafulmine che speravo di essere Ma la gente ha aperto gli occhi E hanno investito in questa visione Noi la chiamiamo la dispensa Qualcuno dice che è l'apocalisse tutto questo caos Una vendetta di Dio Le dico io che cos'è E' un'opportunità Una nuova vita L'occasione di fare ammenda Io ho rovinato Troy nel vecchio mondo In questo mondo Lui ha uno scopo Tutti noi l'abbiamo E niente Cura una famiglia Più di questo Costruiremo qualcosa Migliore di prima Non sarà facile Madison Crede che la sua famiglia sia pronta? Assolutamente sì Allora